Cosa vuole dire agli italiani che amano tanto Capo Verde grazie a Padre Ottavio? Chi visita Capo Verde per la prima volta deve conoscere bene le sue condizioni per avere una visione più concreta del paese, la sua gente, la sua storia, la sua geografia e la natura. Io mi auguro siano in molti a venire approfittando dei voli diretti poiché ora abbiamo la nostra compagnia aerea che ci collega con vari punti in Italia. Per lei, signor Primo Ministro, chi è Padre Ottavio? Padre Ottavio è un grande uomo, un riferimento per noi, un riferimento per i giovani, per la sua capacità imprenditoriale, un uomo di fede dedicato alla causa della Chiesa. Un uomo che sa stare con la gente, interessato alla vita della gente, certamente un uomo che fa la differenza perché fa in modo che le cose si realizzino. Unitamente all'Associazione ASDE ha realizzato molti progetti, principalmente nell'Isola di Fogo, ed è con questo spirito di gratitudine che oggi avviene questo riconoscimento nei suoi confronti. 54 anni di vita a Capoverde di Padre Ottavio hanno cambiato un po' questo paese. Capoverde è cambiato molto dalla prima venuta di Padre Ottavio negli anni 60. Da allora è cresciuto passando dall'essere colonia portoghese alla totale indipendenza. Un paese che aveva un partito unico ed ha conquistato la democrazia ed ora è un riferimento di democrazia anche per gli altri paesi africani e per il mondo. Capoverde ha avuto un grande sviluppo, poiché solo 40 anni fa eravamo una nazione molto povera. Ora siamo un paese di sviluppo medio ed aspiriamo a migliorarci ancora, grazie anche al turismo che rappresenta un punto importante nell'economia del paese. Grazie a tutti. Grazie a tutti.